Nostra live orata trova che è più gente, non, che perde la live di menta. Nostra dia, per me con il lock down, non ho stocchi sali, non mi sento che il lock down è tranquillo, non mi sento un po' in maschita, non mi sento il lockdown. Ora, mi sento che il lock down è un po' in buccia, e il banco maticona non può fare più. Ora che è l'ambulare il banco maticona non è un po' in buccia. Tobito il ulandese, Tobito Dona Cento, Tobito V guilt in 2012. Come va? Sì, sì, sì. Ora, quando la bula Talking Add і con il Mardugano, Tà nocena a noi, Tà pensi che è messo in lockdown alla noce, Pabon, e sà. Come va? V24? Messo in lockdown alle nocce. Non è messo in nostro paese, la cosa nocita bevevo whisky andava no smestica da pendevo tu via e andava bimbo la nostra scossa ora mi chiede un pari cosco porta che amici e spantoso se andiamo chiedendo che è compito da dire pisa a 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 chi è qui? lo che mi dice sta passando non c'è un'altra cosa non c'è un'altra cosa non c'è un'altra cosa che ha avuto 2.000 2.500 o 2.400 florini, perché sono 2.800 1.000 euro ho fatto inoltre per l'Olanda per comprare che mi chiamano di donna non c'è un'altra fiesta arriva in un mesco, in un'altra e s'allajò alla usa no mettere in un sacco o che siquiera�� o tesi ma non c'è un bacano non c'è tutto no, non c'è un bacino il dito poco tu cosa chè? sincronica Chinese ti faccio ma non c'è un bacino io si piegno gli ho faccio per le ragioniche un show e ora mi ti vieno a seguirmo a bobirano a te amo verdad na albatino qui se è a verdad certo costa buttar pa ora con zomer, con autonet, con presentazione, ta mi ta opa se è mi non conosco bo tirami e matami, mi ta muri un heroe e sonco matami a mata un heroe di buona vista se è ora mi muro mi ta muri un heroe da me che mi dico a botti magdi tirami mata la migliore cosa che per sinta cabe molto romana, però non ti mette tanto vende assine no corso, non ti elogano, non ti vado a dominar, non ti mette tanto partito assine, però quando ti mette tanto partito assine e qualche brinca mente ta, a menta gusta a quem, a menta gusta a quem, a menta gusta a quem, a menta tra con quem, viene ta corrupto e costa bole e mira e flie co wills ta batata subie, e costa mirando e flie co wills ta batata subie, a menta blanco nhan guava, buone che blanco nhan da cosque che faccio? Bocci un macchino di tra placa? Bocci un macchino di bolto di placa? Bocci un macchino di tra conio? C'è un conio? Bocci un macchino di tra, non c'è un bambino, non c'è un bambino. non, bo mira un da capitale tabiba, wacca un da capitang tabiba, wacca un da capitang tabiba, capitang tabiba, den capitale minpo, bimbiba dia è progresa, no corsovi no, corsovi è cita capital, pa un uomo maniera mia, si nge bimbiba, denge di nowheres, di nunca minda, c'è un che sa lì bimbi se camì, a tami na corsovi, c'è un processo, se non ti sa lì, di nunca minda bimbi se camì, reò canar, minister di justicia, ah, ah, zà haber, ken mastinh, poliz, ken mastinh, wess, ken mastinh, voi santa vai den coi e va ora cu amig è ganto di no wess, minta mira cu c'è un ta bimbi se camì, di nyun camì, dà tami o dimentiori, mi sta c'umissa 30, dè il buraccio in sé, lò, dè la buxanca, non è lo stesso eco, non è il peso, non è lo stesso eco e il ricordo için la ricordo dara molto molto poi, non con la ricordo ma non ci sono il limonato quando quindi mi sto allesungendo il limonato sono delle macchine e la ricordo è il bebe e gli dalle balle si era il centro e si era solo bello la ricordo non, ma sono delle macchine dalle balle in Egipto, che esceic per me bebe, la ghe che sangue è dentro il sacco, 100.000 euro è dentro il sacco, ora che il ministro di giustizia llega in Egipto, ha detto che 100.000 euro è dentro il sacco, però a mamma ti amo, posso metterlo in setto. Gli cossò. Sì. Viva il suo piede, mi risuai. Viva il suo piede, mi risuai, mi risuai, mi risuai, mi risuai, mi risuai, mi risuai di questo male. Questa è una cosa meno, i c'è mettere il suo piede, che è parto di questo pere. per il mio giustizio è parto di che essere appunto. poi PUM e ti attende a me che è ben corso che mi attende con un colombiano adesso ecco qui, ora devo dire che è colombiano non ti ho spiegato come un po' sali ti ho buttato la massa sempre per noi come che vai qua 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 sopra non ti ho venduto più per noi non ti ho messo in chabum chabum ma qua 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 non ti ho venduto più chabum, due cose e colombiano non ti ho tentato non ti ho avuto droga per vendere ma non ti ho spiegato come un po' sali fidewega ora di quanto sali fidewega non ti ho chabum anche se non mi impara di l'antico colombiano non ti ho detto non ti ho contato per big mouth per big mouth non ti ho contato ma sopra colombiano non ti ho detto che non ti ho dato come ora non ti ho dato come non ti ho dato come non si può essere un ladrò, può essere un mustro, 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 può essere un mustro di antiano, può essere un sangribo messo, può essere un cinta con te, se non mi casse, se non un colombiano che cinta, conta su trecent, quattro, cien milo di florino, fa 10 ore, mi ha detto bene, sta giusto per un trecchè, se è un mustro, non ti conta su placenta bai, ci penso, non si può essere un se non mi vuole con le polizie polizie mi vuole dire che mi ha detto non vissi un uomo si e che dà un uomo sinne qui mi sento alla mia sicuramente mi sento alla mia sopra pintero come mi senta da un uomo sinne qui se colombiano ma è un uomo colombiano ora mi mi re è un uomo che buota dalle mochetto con un uomo qui bra colombiano non con i kengs 3, 4, 5 uombo in un uomo sinne qui piaditi Amo qui poi dalle un mochino a qui, la possono fare ci countdown. Come si tratta laAngelina si tratta25ρα dalla Ctrl, ... Quindi si tratta laresso dalla marma di carne non si tratta da piere La presente dalla marma di carne... ... Come si tratta! ... Non mosters49? Massimo, ragazzi, 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 non ci stanno bene, ma non c'è ancora bene, ha venuto con ragazzi, a fimenta, con i uoi e comina con i cosi, Bota una base alla coca Tambi derbei Bebe whisky Bebe tucos Gulli pel Anche ora si E costa di tracca Boccurpa 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 Se sono ricco Se hai il flaco Ricco ta Dico ricco Se è secco a muro Ricco come carne In un coio Ricco come carne Ricco ti metto Ora largo Sin come Non ti metto Minta bebetecca Sin come Aba te la non to come Pango uebo Aba te inco dalhamonex Aba te inco dal cico su tras Aba te inco dal cico su tras Sinon vanda sin dibobong Queda boteketa manda den Ienco su tras Assinagiwa Ami Ora come come Turaconei no Ainda sei soja Tarde min come So amita bebetecca Meditacione di placa Ora mi tende Mi casa Assim Chichin Mi barriga Ta llena Mita dimmi se Sampa vai Nun albertai Ma bisami Un brodi Mi tambi Vai abanda Sua A mi mi se Sempa Bai albertai Romano A mi mi se Sempa Mi buta Riba Senma Iana trope Senma Iana Minta Lantala Amiga Rocha Nam Bimben Ta So Fergo Kende Bin Si Bokebo Core Tuma A mi se Tuma 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 Se Se Pa Me Sina Contento Tuma Mi Sina Contento Chope Adrenta Din Mi Reiko non è gai e cos'è se è gai e contento pami reiki non è che non sta contento non è gai e 100 grammi reiki reiki, reiki non è gai e 100 grammi vai fermi porta pami reiki si, si, si se non è 100 grammi poi passa 4 giorni la porta pami che base che cos'è? non ti pagare? no non è gai e cos'è ma non è gai e cos'è? tra con me si, si ciòpetta con 6 kg mi sa butuma pavo si ciòpetta con 6 kg ciòpetta con me si paabo, pavo si batuma 6 kg vai con me morsa ciòpetta con 3,50 passi da miravo non è gai e non è gai a loro bambino con trabo rumano contate che cos'è? a loro bambino con ciòpetta con la cos'è? ciòpetta con la cos'è? e cos'è come un abaiano si però io beba nami cospa amici io bebi pa bo pa bo pa abo che da conne sia well mi tabbin tre se colombiano nantambe a chi pa bo che da conan e coi manabe non rumang tra co ne pagami se andai bene pidi cos pidi cos mi dilla gami push bo mi tab push bo reiko reiko mi tabbin un push che ora mi tabbin che sen pa mi sigi push bo con cos se colombiano nantambe mi dico push nantambe cos o nantambe sen che conia pabo ma nantambe cospa botraha conne pagami ma che ne bo botra anta cospa bo botatuma che menituma kilo singita kibabese conne drumium ma conne ai iudibo naitame bacia tu le iudice kisinko ai nela blanca 3 kilo o picoya halatino ta halatur babino ah halatur butabo come si atrapaga ma se li e mesche cose domanda di aceta la nostra gobierno di benabista ciò pe amuri ammita mandriaci di ciò pe man links di ciò pe mandriaci plus man robesta ammita ricco se non mi sera tratta da un'ottomanera l'uomo bingue per l'uomo bingue sua ammi si non ti tira co co chiquino ricco non ti tira co co chiquito ricco ta militer ammita soldat mitami non ti tira co co chiquito ora mi llega menita è con la sua bocca ma città sali e fido in alto ora mi llega e con la sua bocca ma città pa foge alto bieso se potire andra qui dive anti treated micabeno ora mi llega कيا ma dei goca an vavu і vuarei al e coi suli ma saluto mesi, ora che si bata ma non la gàmi come nella mità e dèmi caserno la gàmi dèmi caserno dèmi bunker ma si sta buttando la roba qui si può salire in casa che ora che si acende la sua lucia mi sta buttando la roba e non può acendere la sua lucia che ora che si acende la sua lucia che si ha buttato la sua lucia ma ci sono quelle che ha ci sono che si sta buttando la sua lucia io ne vissaggio i monti un lato di soldi si vanno con le panze di merca per andare con i ministri si vanno con il militar si vanno con il ira si viene buttando per riposare la sua lucia in vento per panze il 1400 il nostro corso è stato un po' militare non c'è un po' di più non ganser non mafia militari non c'è un po' di più no tendo un momento ora mi arrivo a cor solta parra parra botanami che mi ha detto e guava va botacchera diablo botò però mi quita mi brela sinne qui no e uova non mi to' guava con nessini no mumucha bota morire bai guava bota mi sabi guava opa viste ebrel bec e se te pa' bossa come to' guava viste ebrel ora mi quita i coi tamatabo awe awe tamatabo awe awe tamatabo te coi babimbuska kinang awe 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 awo 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 bon tabay mas abong tabay numenintamira bunakasni nada numuotong talora numuotong talora numuotong numuokidube tamatabo awe talora din kura toca numualfabland mas se nos pendeu paquico paquico dos cem partidos no corzou nos mes te de dos cem hende papai planta nos mes dos cem tre cem hende pa busca mod manda riba nos nos mes tanto hende assinita que vos anque as mandatario vos anque vira vos anque vira planta donto que ora vos anque a planta pabosan come pulanda no kibuna bosan siang maso pulanda no kibuna pabosan maso kung bosan tasi ang bosan tayam chines anong bosan tayam mafian italian al alt a soc m bosan ang sap siang bumbario siang bumbario siang mafian sa s hai ELELELELE MARICO! PUTA! CHICO! Desserti io cazzo il tuo parano appuntamento e si chiede marico con puta io cazzo il tuo nome e il tuo accento che ora è il tuo accento con il marico con puta e ti schimbi con il papi e arriva internet che ora vuoi andare a trabovo? Oh! Da chi trabovovo ti ento? Vuoi prendere prostituta, vuoi prendere puta per voi come? La vela che sang Arabic non tanto, non tanto,直 assista L'aiiesto di gioche pochino con il trovato l'aiiesto hoping mantspm non fa spesso la Croccia e non solo l'perfondimento mali rocciano come prima per noi arrivano in sette minacossen a sera e tardi tu dà me spesso a vendere a nocci Mamma! Andiamo! Voi? 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 ma hai bati pugnete soli certo, i dia non è come vai trana, è portoghese stai a me manierano su cantina patrassi e lì è lecce si è, si è, si è, mi ti trempando tra bo, segui il corso, segui il portoghese no, tolamo la parra, del frio e travelta, batìa, batìa, da un cacigli e sacati la bag vai bati pugnete, non ba, è coinfidendo la mia cabeza rastavata tope pugnete ma bati, no, ba, ospede la mia cabeza, non sobrava specie, stai da cien di loco specie a palo di Mosan, che non ho fornato un uppo generale e un appo viel mentre non versò non ho decresi la mia città è 10 mui mentre in ogni anno mi ha metto un mui prima ma si è, mi trova, mi porti a fare un paletto con i dei cativei, da mia città se è, città marino città e le ho trovasi, mi ha sentito il bello un buon non ho ancora mai, non non ho venito a me verso il corso non hanno compito ed in cell a fianato halfasso a casa. No l'arga mi entra qui affare i çocuğa che arrivano da parte sedata nel sito hyde di e ho mai che via. Ho mai che in casa. La mia, i mandi a venire a venire a venire ma come attenta con i nostri amici, con i nostri amici che ci sono siani e si sono a casa. Ma mia sia sempre a fare alberta mia compa no comienza. mi non c'è il sieno riba, sieno che abbiamo rupi sieno si riemanca sempre a fare alberte alberte è qui non in cibo di un luogo orale alberte è qui non con il Kiko, il Zumbo c'è il bandale, il marocano qui non è qui non il coffee shop qui non il coffee shop qui non il coffee shop qui è qui quello che ci c'è qui è qui il coffee shop delante è qui non è la mia centrale è qui non è la mia vita Io sono riuscito. In una città. Non mi sono riuscito a camminare la costa da meio del sole. Mi sono riuscito a camminare la costa da numa un solo. Io sono riuscito perché sono riuscito a vienerla ad un'Alexandra. Io sono riuscito a camminare la costa di mettere l'Alexandra. Sì, quando mi sono riuscito a dormire, è valore. Sono rimane delle persone e dopo andare a dentro. Io sono riuscito a possiamo riuscermi a venire. Io sono riuscito a dormire... Io sono riuscito a dormire. Proprio mi dormi di nanti, che ho il nome di Alexander. Da un da abo tu dormi nel corso, ora con bontini, senza bontini, nada. Bambami, cominciai a apelare con la esquiva, con la ipami. Bostante mi cansa, bostante la esquivinha, con il pendeu. Bostante mi non, babà! Ah, vai mi dimita, babà, tu rende a questa mano! Ah, vai mi dimita, bimpa, tu rende, babà, 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 babà! Ora è troppo bai biga, si qui tra sei, che era, ora è troppo benta era fosse, si qui tra sei c'è euro. Si, a hobi tu busca sei c'è euro per tra sei qui. Nubi canese di braga, qui brabois e treco. Duecent e sessenta euro dentro del sprint. Duecent e sessenta euro, no corso a walk, bota c'è l'illustri, barulho, se fai, tu è, co' alto un poradale, non è ne mata benta demone. Passi l'illustri, non c'è, tu rende a mira. E tabaccia a puta, t'abbè, si, si, mi mamma tá a puta. Mi ti amato, mi ti amato, mi ti amato un limpiandà. Mi mamma, ma mamma, mi mamma, ri-bobà, perché mi non mi limpia gente. E vanno a Всеè il mento, c'è, vanno a me, vanno a te odemente con gente, e ti ho spiecare a me, che l'umbanda per me limpiandà. Ai-ai-ai-ai-ai! Roi, l'ho mandato un'olimpia! Allora in quanto mi sono regalati, abbiamo l'opinono, poi ho il dolwindico e ho? E ho di andare al� PM varicare per andare inolpendo un'olimpia! Non è proprio il bani, non! Roi, lo, 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 lo!! Mi mama, ma, va, 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 mi mama... Mi estima, mi mama, mia scucia, mi stima, io sono tu, a mia mamma! Tu rendi solo di un'amma, Ho però ne immagini, come ho visto? Me senti dove la mia stia. Quando la mia stia stia, non era un lettese altissimo male. mentre la mia stiaose belle l'arte più bravo, ma sei una mamma e un male è così e una mamma di milioni perchè ci siamo molto sti ma come una mamma mamma come sei mamma che ti sti tra papi non si chiama e bai sai mamma non sei a me muet eva come un nastro e come un arribo a mamma come un nastro e come un muet non si è un attalante non si è un attalante E ora a di parole, perchè è ormai, è arrivato a Roma, e di nuovo, è un capitolo. E l'acqua è arrivata. L'acqua è arrivata a Roma, è arrivata a voi e relazata il cibo. E l'alleggiamo su un sito in un'ipistola, e le metri che a metri, e il capitolo che è arrivata, è arrivato a te e lo metri, ma magari è arrivata a un sito, allora lui lo metto e mi dimostra, ora viene arrivata, ora è arrivata a me, e lo metri che è arrivata a me, e mes avvira intercettila che davai strì 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 mi te buttavo che davai e tu ti dò mi ti mai miravo ti india mandato di bobotami non la gai mi mire indi robes e dianacca che vanno so mi ti mai dà l'anco auto che ricutavo mio botassi di botassiendo botata botassiendo botata no mi santa qui tipo loco lobo che assi mi va 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 mi ti matei uva parla che uva di camaro mi ti compro 8 cilindri per amaro a buga 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 a rum a rum mi ti atrapè coi esso uva ora mi bulle ora mi vente coi den drive e bau da noto uva mi ti busquei lago prome cu 2 cu 3 anto despedrive bau da noto uva ora mi non conosce auto mi ti manda buschi auto per auto mi senti un prome i bau mi dalle coi tete i bau non ti metti coi minchia auto di un prome a seguito bulla claus va 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 e resi 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 dalle palanchetti i bau e che c'è coi auto la c'è coi auto la c'è coi guaaaaa buce bossa conoscere i coi bossa intende dimmi la stamana la c'è coi da bossa nonca uva mi t'apa sobrava mai e che ne terminò guta decada di sessenta ai mi t'ai coi anto muccia nanti guai un tiki cacci cacci rei co ta mi dava cacci cacci guai t'ai un gai de me da vista cacci cacci da tia mi si si mi dico le cacci cacci qui coi e dico mi va si bokemo ya va mi cacci cacci temes tu va rei co turcos guta cacci cacci ta a mi ai 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 ma to paende preto de mi vida cu a sinhame un caden circo pa palhaço cacci 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 quende merguita sobe palhaço mi sò rei co a mita palhaço mita si tu costa ti co vai preto se ora com a nance e a cabana mira tanto morto ca caia co incamento co cos che costa ta bando tranquillo si pa na sinhame di caia cu a rei co a rei co a rari come sa rari tu dia si vende paracanti caia cara na biai a bu tabu ho ta binti ai deem pisca la a tabu deem pisca la no co sol vinte ani ho si 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 ta reabilita anto brawa o noto embaimento tampouco si pa se co a cometer non se tem medo de la gabubai pecoce vai volver repenti di nobo a troba si pa bai bota dentro ca so di asesinato bote in vinte ani sera mi co ami ta oficier mi ten gana di la gabubai pero va 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 pa despebo ma tem mucha macamba chiquito tem caia pa su senha trobe e macamba non co bota merita che co a rei co a rei co nang quedi den quedi den casca batata quedi den pisca la casca batata pa bu come casca batata pa bu brother nan tambe come e gai na mesco cubo come te cos e ta den pisca lai che cos nangii cria otro den labo otro susel passaspa otro uma pa so batende di pisca la fi tempo botata chiquito temen iwan ta bom mama ku e bu na bom mam bayi babi dena ku ta bom mama ku e bu na bom mam bayi babi dena antori wami ta pide na pa pa sa cabo no ta bom mes a bayi den antori wami ta pide na pa pa sa cabo antori wami ta pide na pa pa sa cabo e den bo te geta biba minos tim cominda que tu cosi den pa so ora ku ene nan pa foda na co sou ora ku ene nan pa foda muriendo di amber abai a cominda na ora che do soro cominda llega camineta uen e nan ta ia foda bu se mori waco nata si casca batata u traun sopi pa nan come ainda nan da den la manta pisca pa yega teraki pisca na pa na waco na mama ta si come ah bodim pisca lai ali eh turora pang minta botin tukon e den cel no boga pa sa li pa soro pa sa li da den miseria bota bim pa fo bota bim den em miseria atrobe e bota bolbe vai parra guarda jais nas na rato nem mas que o jais ta muri kaba bota bolbe bato vai waco manes periti jais tire bota kenko bokei ah me ta papiando ruman rico bota bota cumi tembo mita gai chiquito ma buttabo drumi plat plat abou se che ora bom milani botakai drum abou mita batibu com macete tembo mita gai chiquito mita batibu com macete di platri babolomba rasma com macete mita cana rasma punta mita bay mita cana di benabista te punta com i macete demi man passa de marcena na kitor patul gai macena sa cu uishu cu tuconho cu domi cu gai otra banda cu tuconho bingadeba mi cabosang ami cu tuconho cu tuconho cu tuconho cu tuconho cu tuconho matasa para mo dimbo aib cu tuconho cu tuconho cu tuconho buong gabit cu tuconho cu tuconho matasa caminabu tu mabit cu tuconho si pu flog cu tuconho con mam 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 chi fa sempre, quanto dove c'è papi Lockdown thing, lockdown thing puoi prendere un'inizio ma non è questo che non si può vicino se si può vicino non si può vicino ha gami per una famiglia quando hai un sogno con una famiglia ma non ti ha fatto hai fatto che..." Noi siamo davanti al lockdown Noi siamo davanti al lockdown siamo davanti al lockdown inglesi richi ma non abbiamo visto al lockdown non è bormia ma non chiedi Sì Quarenta e sete sei. Tendeco eita. Ma sopia. Ai ai ai. Mi sta ben maiando. Come sa grita di lante di porti. Quando mi sta comando sali. Ma sua ame. Chegai a casa come sa grita. Due mesi parai. KENDE! Mi sta conoscendo ma camba. Mi polizio non si era. Mi serra non si era. Ma sa vedo lada. Wanneer de agente die hier arriveert. Wie is deze man? A mi te sacca legitimatie doen nan. Kedawa na. Hoor ik ge agent nai no. Wakribe legitimatie no. Mi te drie keer ouders dan nan. Mi te come sa meneer. Mi te putana na kwa school ma du na wosan les. Op welke school? Eke eet geen meneer. Eke eet Raymond Victoria. Meneer no. Meneer toroma sin. Da du rabo les na school. Meneer. Mi te come sa cu ee punto di banan. Bobini. Hoor. Si. Pero wakno. Mi cae mi famia na min sabay. Mi te imba. Vai ca yende si tom vergüenza pa ami. Si. Mi tim vergüenza di vai ca yende. Si. Tu rende bobini mi caas. Mi no tim cuners. Pimpa Kiko. Pimpa mi logbo. E den na. Bo diin cammin de log ebesia e den. Bo diin cammin da bebesia para tirascop. Ebesia. 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 Non mi chiesa, non mi chiesa. Anda, a vota cos'interessante Siawa, a mi dia soriminta, non bebori, acaba 8 soriminti, nang parata, cambie vico nang core, passa debo angge, sigi, sigi, bai, bel, sigi, piki, vico nang, passo Entendiamo, gai, qui qua numero mi tengo permita, qua bel Ah, well, ya bisap Ah, ahi Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.